...di aiutare o spendere una buona parola per un parente, per un lavoro. Una volta in Italia i posti fissi si tramandavano di padre in figlia, erano ereditari. L'amico mio lavora al comune, prese il posto del papà, il primo giorno l'ha chiamata, e ha detto, papà, sono quattro ore che non faccio niente, non so che cosa devo fare, che devo fare? E il papà ha detto, tu sei quattro ore, a me sono passato 40 anni e manca l'ha capito.